Si arriva ad un Natale che possiamo definire migliore di quello dell'anno scorso, ma comunque sempre da vivere con grande attenzione. Certamente, proprio così. Io dico anche che la natura del Natale dipenderà e dipende comunque da noi, come lo viviamo, anche in condizioni di grande attenzione che dobbiamo avere, possiamo comunque riempirlo del significato che ha. Io auguro a tutti i cittadini di Fiorano di avere un momento di serenità in occasione del Natale. In modo particolare chiedo di portare il saluto e gli auguri a persone malate o sofferenti che possono essere nelle famiglie, che il Natale sia un momento di sollievo, sia per il corpo che lo spirito, per tutti noi. E mi auguro e auguro a tutti, cerchiamo di dare peso alle cose che davvero contano e di passare sopra a cose che a volte disturbano anche i nostri rapporti personali, ma che in realtà sono cose molto piccole. Grazie e buon Natale a tutti.